Sospeso il decreto del presidente brasiliano Michel Temer che prevedeva l'abolizione della riserva naturale di Renca nella foresta amazonica. La misura, voluta con un'ordinanza dello scorso 25 agosto, prevedeva lo sfruttamento della zona protetta da parte di imprese minerarie e aveva sollevato un vespaio di polemiche in tutto il pianeta. Il magistrato, il giudice Rolando Valcir Spanolo del Tribunale federale di Brasilia, oltre ad accogliere parzialmente la petizione popolare presentata nei giorni scorsi, ha sottolineato che per una scelta del genere non basta un decreto ma serve l'intervento del congresso.